ciao a tutti sono Giusy e ci troviamo ai Balloon Party Days oggi mi trovo in compagnia di Daniela ben trovata ciao a tutti allora come sta andando la tua prima esperienza da istruttrice in un evento così importante come i Balloon Party Days guarda come tutte le cose vabbè innanzitutto vi saluto grazie mille per questo invito e come tutte le come tutte le prime cose ovviamente c'è tanta emozione tanto nervosismo però dire la verità sono stati proprio i partecipanti a aiutarmi a sciogliermi il fatto di cioè condividere comunque ovviamente il mio insegnamento e anche a prendere da loro cioè questo mi aiuta moltissimo a sciogliermi quindi direi che al momento va tutto tutto bene insomma sono stati una bella carica i tuoi allievi sì 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 mi sento proprio per dicere dopo la mezz'ora davvero ero già a mio agio quindi benissimo e dice un po' come invece ti sei approcciata al mondo della Balloon Art chi è che ti ha ispirato ad avviare la tua attività e come hai rimossi i primi passi bene se devo essere sincera come sapete penso tutti io sono una mamma e quindi la mia grande motivazione sono i miei bambini e la passione per questo mondo è nata proprio da quando è nata mia figlia quindi io dico sempre è nata mia figlia ma è nata anche la mia arte è stata lei a motivarmi ovviamente poi ho cercato di cercare informazione ho cercato informazioni ho iniziato a guardare un po' i corsi ho iniziato in questo modo e anche se devo dire la verità mi ha incoraggiato tantissimo tantissimo mio marito perché magari lui vedeva qualcosa in me che io al momento non lo vedevo sinceramente è iniziato in questo modo poi ovviamente ho fatto tantissimi corsi poi io lo dico sempre ho la fortuna di essere sudamericana quindi lì proprio lì quello è il mondo dopo i primi corsi in presenza che ho fatto poi mi sono dedicata tantissimo anche all'online e direi che oggi sono qui esatto sta andando molto bene molto come detto tu appunto anche te sei mamma anche io sono mamma e sappiamo che non sempre è facile come ti dividi tra gli impegni lavorativi e quelli da mamma guarda questa è una grandissima sfida davvero tutti i giorni si combatte ovviamente con cercare di far combaciare tutto devo dire che è comunque io ho un grande supporto come ti dicevo prima di mio marito che in questo momento anche lui fa lo stesso lavoro mio ok quindi abbiamo cercato di organizzarci non sempre tutto fila liscio sappiamo che l'imprevisto è dietro l'angolo però l'organizzazione davvero fa tantissimo e cerco ovviamente di organizzarmi nei momenti dove i miei figli sono in altre attività o a scuola e in modo che io posso dedicarmi e concentrarmi al mio lavoro questo penso che è una cosa molto difficile ma non impossibile esatto organizzarci e avere una rete di supporto questo è molto molto importante questo è veramente fondamentale perché se non abbiamo un aiuto non riusciamo quello sicuramente esatto e invece raccontaci un po' come è nato il tuo rapporto con balloon party e cosa ne pensi di questa azienda allora ho iniziato da cliente sicuramente mi sono subito subito trovata bene perché ovviamente la loro professionalità è indiscutibile ok mi sono sempre trovata mi sono sempre trovata bene con i loro prodotti hanno una grandissima scelta e poi un giorno è capitato che ho fatto una collaborazione insieme a loro e davvero da lì in poi mi sono praticamente innamorata ma non dall'azienda proprio da come sono loro come non so sembrano una famiglia una comunità quindi mi hanno fatto parte di questa comunità e io mi sento davvero molto molto grata e infatti per questo oggi sono qui esatto diciamo che le aziende che funzionano bene è questo quando arriva il messaggio della famiglia di sentirsi proprio tutti ci sentiamo parte di questa loro grande famiglia infatti c'è come vedi lo sanno tutti oggi il mio primo giorno ma dal momento che mi hanno preso in aeroporto io mi sono sentita davvero molto molto a mio agio bene questo è fondamentale e invece che consiglio daresti a chi ci ascolta che vuole iniziare in questo settore e che sta cercando di capire come come muoversi da dove partire sì allora il mio consiglio sicuramente è che se hai un sogno un'idea di portarlo avanti ovviamente come tutte le cose c'è la paura ma non ci facciamo fermare da questa è una cosa nuova come anche per me all'inizio stata una cosa nuova ma ho cercato sempre di tenere duro di essere sempre aperta al imparare quindi cercate di formarvi cercate di formarvi sempre non siete aperti non pensate che magari già dopo due corsi siete a posto invece no c'è sempre sempre da tutti da imparare io se vi devo raccontare una cosa il ho fatto per quattro volte il corso base in presenza e altre tre volte volte online quindi io cerco sempre sempre di imparare anche adesso in questo momento che sono qui dall'altra parte del banco comunque cerco sempre di guardarmi intorno di imparare e penso che questo sia molto molto importante esatto il nostro è veramente un settore dove nessuno è mai arrivato realmente esatto dobbiamo sempre imparare può esserci sempre la novità perché quelle vanno velocissime nuove tendenze esatto questo mondo che va di tendenze e quindi anche noi dobbiamo essere sempre al passo sempre se si vuole emergere in modo particolare bisogna comunque essere sempre dietro a tutte le tendenze esatto iniziare proprio a imparare proprio inizio mettersi lì e dire ok questo lo so fare bene cos'altro invece non so fare cosa mi manca per poter seguire questa nuova tendenza nessuno qui è mai arrivato si tratta di creatività e quindi la creatività è sempre in evoluzione esatto e invece parlando sempre di tendenze andiamo un po invece sul lato social nell'ultimo periodo hai avuto una grossa esplosione sui social e con molte persone che cercano un po di emularti di copiare un po quello che è il tuo stile ok di racconto sui social da cosa pensi sia dovuto tutto questo successo e tutta questa grossa appunto esplosione io penso che ho cercato di portare un contenuto molto reale ok faccio vedere la mia parte sì di artista ma anche come sappiamo tutti di mamma del vero e proprio cioè quello che c'è davvero dietro questo lavoro quindi magari questo aiuta la gente a connettersi perché è la realtà un po di tutti questo lavoro come sappiamo è maggiormente fatto di donne e quindi loro si rispecchiano praticamente in me io sono una portavoce della realtà di questo mestiere penso che questo aiuti a mettersi ovviamente dietro c'è tantissimo lavoro perché c'è cosa che molte persone non credono perché c'è a parte ci tenete conto che io ok faccio i video ma io faccio anche gli allestimenti tutti i weekend sono mamma tutti i giorni e quindi c'è anche la programmazione di questi di questo contenuto e tutto c'è va tutto pianificato vuol dire che tutto questo è un grande lavoro esatto non è una cosa improvvisata no non è una cosa improvvisata ma è quello che ho sempre voluto perché quando ho iniziato io cercavo un'ispirazione reale qui in italia e magari si le trovavo in spagnolo in inglese però qui in italia c'è questa cosa non la vedevo ho detto beh magari sono io quella che può portare questo messaggio e grazie a quello grazie a tutte voi che mi supportate io oggi sono qui bene grazie daniela devo dire che hai fatto veramente tantissima strada siamo contenti di averti qui a ballon party days hai ancora delle lezioni da fare quindi verremo a sbirciare le tue lezioni allora un buon lavoro e grazie per essere stata con noi grazie mille a tutti voi e voglio ancora ringraziare la famiglia di ballon party per avermi invitato a far parte di questo grandissimo evento voglio ringraziare sempre dico sempre la mia famiglia i miei bambini perché grazie a loro io oggi sono qui che sono la mia motivazione grazie a tutti grazie a tutti ciao alla prossima